Erano dei veri e propri professionisti non in operazioni chirurgiche, bensì in quelle meccaniche, trapiantavano infatti ricambi di auto di lusso in vetture rubate, questo quanto scoperto in Casentino dove si trovava una vera e propria centrale industriale ovviamente illecita. In azione da questa mattina i carabinieri forestali, che assieme al comando della Polizia Municipale di Arezzo, ha eseguito numerose perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità romena coinvolti in un sodalizio secondo gli inquirenti dedito a reati di riciclaggio, ricettazione falso in atto pubblico, esercizio abusivo della professione meccatronica e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Le perquisizioni seguono un'articolata attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo Angela Masiello che ha permesso di accertare l'esistenza di una vera e propria centrale industriale dedita allo smontaggio di automobili di lusso di provenienza illecita, italiane ed estere per l'immissione sul mercato dei pezzi di ricambio. Secondo l'ipotesi investigativa, l'attività illecita veniva svolta attraverso false documentazioni che attestavano le fittizie esportazioni di auto all'estero ma che di fatto non avvenivano. I mezzi 50 in tutto quelli rinvenuti venivano infatti concentrati nel Capannone in località Corzalone che adesso è stato posto sotto sequestro.